Non esiste una pasticchetta, non c'entra niente, ma dato che ho dei pensieri che mi ritornano continuamente, mi chiedevo se per caso c'è una pasticchetta per liberarmene, perché smettano. Senta, io non posso aiutarla, sono un podologo. E tu morirai? Beh sì, un giorno moriremo tutti. Sono bambini e io li trovo insopportabili. E tu quando morirai? Non ne ho idea. Un mese che si conoscono e i genitori devono incontrarsi a tutti i costi. Intanto sono quasi due mesi e poi dopo tutto è un'occasione. Beh, che ci fate qui? Ma ci rompiamo le palle, che vuoi che facciamo? E suo padre allora? No, no, con mio padre va bene, è morto poi quindi. Non vuole parlarmene un po'? No, no. Sapevo che l'avrei incontrato e che sarebbe stato il grande amore. Tra detto una veggente? Ma no, è il mio sogno. È completamente stupida. A destra. Tieni la destra. Vai a destra, a destra, a destra, a destra! Non sono capace di... Non guiderò mai più. Ma tu puoi guidare, devi semplicemente guardare lo specchietto. Ripartiamo? Accensione, freccia, specchietto. La freccia. Specchietto, specchietto. Specchietto? Se vuoi guardare dietro lo specchietto. Eh, sì, sì. yes. Siamo una scena.